Proprio nel giorno in cui è di nuovo possibile godersi un caffè al bancone del bar, per un datore di lavoro e il suo ex dipendente, il caffè è stato invece la causa di un incontro finito decisamente male. Si sono incontrati casualmente in un locale di via Vittorio Veneto ad Arezzo e tra i due sono emerse vecchie ruggini legate a pagamenti di prestazioni lavorative non saldate. I toni particolarmente accesi con minacce di morte da parte del datore di lavoro hanno indotto l'ex dipendente a richiedere l'intervento dell'acquistura di Arezzo. Gli agenti arrivati sul posto hanno rintracciato il dipendente mentre il datore di lavoro si era già dileguato. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che le minacce in realtà andavano avanti da un po' di tempo e in una circostanza era comparsa anche una pistola. Sulla vicenda ha quindi iniziato ad indagare la squadra mobile e a pieve al topo frazione del comune di Civitella in Valdichiana ha rintracciato il datore di lavoro, un 49enne cigile su iniziali pregiudicato. La perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare a casa del 49enne una pistola semi-automatica calibro 7,65 munita di caricatore e munizioni oggetto di un furto in un'abitazione che si era verificato a città di Castello nel 2008. E così per il 49enne sono scattate le manette dovrà rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo.